Abbiamo messo risorse anche per le città delle grotte come gesto di sostegno a questa filiera della collocazione turistica che risulta dimenticata. Ci sono molti comuni abruzzesi, dall'odevole comune San Demetrio dei Vestini a Tarantapeligna, a Sante Maria, a Carsoli, a San Valentino, Roccamorice, Lettono Pello, poi ci sono i grandi comuni delle Puglie presso i quali tutte le nostre gite da studenti sono andate a fare visita. Noi abbiamo ragionato con la logica, aiutiamo i segmenti in sofferenza, quelli che hanno i codici ateico e quelli che comunque dispongono da parte nostra di conoscenza. Voglio dire anche che il lavoro di istruttoria che ha fatto il Senato sui DL Ristori 1, 2, 3 e 4 ha financo previsto una norma per il sovraindebitamento, per aiutare gli operatori economici che avevano sofferenza rispetto alla tenuta dei propri conti, prima dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa. Adesso il sovraindebitamento alle condizioni della legge può trovare copertura bancaria, alle condizioni della lettera della norma. Insomma si è cercato di fare molto, tanto resta da fare. Pensiamo alla sofferenza del commercio, anche cittadino di Pescara o dell'Abruzzo. Su questo noi dobbiamo cogliere l'occasione del DL Ristori Final, il DL Ristori numero 5. Dobbiamo superare la categoria del codice ateico e dobbiamo fare in modo che entri la filiera, cioè quegli interstizi non coperti fino ad oggi che devono avere copertura. Io penso anche all'amplissimo settore del turismo. Molte piccole attività non hanno trovato ad oggi sostegno. Grazie.